Per la notte di San Lorenzo del 10 di agosto l'immagine del litorale del Monte San Bartolo torna per la non edizione ad essere illuminata dalla luce di 20.000 fiammelle. Candelle sotto le stelle riaccende l'atmosfera romantica del castello di Gradara e i 7 chilometri di costa con più di 80 stabilimenti balneari tra Pesaro e Gabicemare che si coloreranno di bianco in piena condivisione con il dress code della serata. È un'edizione attesa, attesa appunto perché è l'appuntamento non solo più glamour se vogliamo ma anche più partecipato, anche più popolare allo stesso tempo e non è facile tenere insieme questi elementi dell'estate. Quest'anno avremo anche il contorno della ruota, fare da scenario ulteriore in bianco alla notte in bianco delle candele e la partecipazione confermata appunto della riviera del San Bartolo da puntista musicale diverse novità, in particolar modo su Pesaro avremo questa liaison che si conferma dopo il Caterra d'Uno con l'orchestra Casa Dei questa volta con l'orchestra Ivy on Travel che qui capiamo anche un concerto veramente di qualità, veramente importante e altri momenti musicali come ad esempio la pizzica e altri spettacoli che verranno distribuiti nel lungomare. Noi di solito ci riorganizziamo, ci troviamo alle 6 alla zona della Palla di Pomodoro e da lì dopo ci dividiamo i vari compiti tra i volontari e si parte comunque all'incirca per le 7 e mezza, 8 e le candele sono tutte accese per l'evento. Quest'anno ci sarà come l'anno scorso in la zona sempre della Palla di Pomodoro lì adiacente alla Palla di Pomodoro la scritta con le candele Pesaro 2024. È un appuntamento importante, è un appuntamento molto atteso da tutti i turisti, dalla cittadinanza ormai è una consuetudine, la notte porta anche elementi di magia a Pesaro quindi quest'anno pensiamo sia un'ottima edizione, molto coinvolgimento anche l'associazione è parte attiva quest'anno dell'iniziativa quindi abbiamo grandi attese.